Avviato l'iter per il progetto di una nuova linea di tram a Viale Marconi. Il futuro tram partirà dalla Metro B San Paolo per arrivare a Viale Trastevere. Intanto sono state stanziate a bilancio le risorse per la progettazione e la realizzazione della preferenziale della ciclabile lungo Viale Marconi. Continua la lotta contro i furbetti che non comprano il biglietto per i mezzi pubblici di Roma. I passeggeri, sorpresi senza ticket, potranno ora pagare la multa con Bancomat e carta di credito con una riduzione del 50% se lo faranno a bordo del bus e direttamente ai controllori dotati di post mobili. Si è conclusa la seconda fase di consultazione del PUMS, il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Attraverso un questionario online sul sito www.pumsroma.it i cittadini hanno potuto esprimere le proprie preferenze su priorità ed interventi. Un processo partecipato per decidere insieme gli obiettivi strategici in tema di mobilità per migliorare la viabilità della capitale.